Rosolini e i carabinieri arrestano un 34enne per violazione degli obblighi. I carabinieri della stazione di Rosolini hanno arrestato un 34enne per avere violato ripetutamente la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali che lo obbligava a permanere presso la propria abitazione dalle ore 3 alle ore 8 di mattina. L'arrestato, che stava scontando pene alternative alla detenzione per frode informatica e altri reati, su disposizione dell'autorità giudiziaria Airetusea a seguito delle numerose violazioni degli obblighi imposti e documentanti dai militari della stazione di Rosolini e dell'aliquota a Rademobili della compagnia di Noto, è stato associato alla casa circondareale di Siracusa a Cavadonna.